Tre date, 16, 18 e 27 novembre, tre giornate che saranno decisive per il futuro politico e personale di Silvio Berlusconi. Tra dieci giorni si svolgerà il Consiglio Nazionale del PDL. Quello che era programmato per l'8 dicembre è stato anticipato la notizia e di meno di un'ora fa Silvio Berlusconi ha messo la sua firma alla convocazione dell'Assemblea che dovrà sancire il ritorno a Forza Italia, che significa azzeramento delle cariche, nuovo organigramma da definire. Un segnale chiarissimo al governo ed anche alle colombe di Alfano. La prima partita che il Cavaliere vuole giocarsi è quella interna. Vuole la conta per poi presentarsi in caso di sconfitta dell'ala governativa con il partito compatto al suo fianco per combattere le altre due sfide decisive. Quella sulla legge di stabilità e poi quella sulla sua decadenza. Il voto di decadenza va insieme alla legge di stabilità e il messaggio inequivocabile di Renato Brunetta. I falchi insomma non ci stanno al gioco del rinvio e mettono nel mirino la legge di stabilità non escludendo la crisi. L'accelerazione sembra la risposta ad un'altra decisione arrivata oggi, negativa per Berlusconi. L'assalto per rinviare il voto sulla decadenza è andato fallito. Il presidente del Senato ha rispedito al mittente la richiesta di invalidare la giunta delle elezioni che lo scorso 4 ottobre aveva dato il suo parere favorevole alla decadenza da senatore del Cavaliere. Secondo il PDL giunta irregolare nel mirino i messaggi mandati su Facebook e Twitter da Vito Crimi durante la seduta segreta. Violazioni considerate gravi ma non tali da invalidare tutto decide nel Consiglio di Presidenza Piero Grasso favorevole solo a sanzioni personali. Contro Grasso si scatena la componente PDL del Consiglio composta dai senatori Mussolini Casellati e Gasparri spalleggiati dal leghista Calderoli e da Lucio Marani di Gall. Per oltre due ore in chiodano Grasso cercando di fargli cambiare parere visto l'insuccesso abbandonano il Consiglio facendo mancare il numero legale. Sostengono che così il Consiglio non deve considerarsi chiuso anche in questo caso però Grasso prende una via diversa per il presidente del Senato e il Consiglio di Presidenza non è competente a decidere sulla richiesta di invalidazione. Chiuso o non chiuso per Grasso insomma la questione è male indirizzata vicenda superata assolutamente no. Se Schifani chiede a Grasso di sapere qual è l'organo del Senato davanti a cui si può appellare la decisione della Giunta la notizia della convocazione del Consiglio nazionale è la conferma che sulla decadenza il Cavaliere è pronto a provocare la crisi.